Ciao, sono Ruggero Pazzaglia, il fondatore di The Drum Booster, strumenti per il batterista intelligente, e ti do il benvenuto a questo secondo video che fa parte di una serie dedicata alla dimostrazione della grande differenza che c'è fra un videocorso strutturato online in maniera moderna e efficace e quella serie di videopillole sparse in maniera selvaggia su per esempio YouTube o Facebook. Continuiamo il discorso che avevo interrotto nel video precedente. Oggi ti voglio spiegare per quale motivo i videocorsi online possono farti risparmiare tempo e soldi. La gente è alla ricerca continua di nuove informazioni e i musicisti soprattutto sono proprio affamati di novità. Questo perché il musicista per costituzione è in eterna evoluzione. Suonare bene uno strumento musicale richiede esercizio fisico e mentale costante e conoscere nuove tecniche e nuovi schemi è una priorità per noi. Se poi si è già entrati nel mondo del lavoro sia come professionista nel campo musicale o con un altro lavoro non è che si è più tanto tempo e risorse per potersi riscrivere di nuovo a scuola come se uno fosse ancora un teenager. È dimostrato che attraverso i corsi online si possono imparare le stesse cose che si imparerebbero frequentando realmente una scuola. Con la differenza che è molto più economico e ognuno studia con i suoi ritmi. E parlando di me personalmente sono sicuro che la mia famiglia ha investito per la mia formazione musicale qualcosa come 80 mila euro e forse anche di più. Oggi tu potrai entrare in possesso di queste informazioni che a me e la mia famiglia sono costate queste enorme cifra spendendo decine e decine di volte di meno. Certo non faresti la stessa esperienza di vita che ho fatto io a Milano, negli Stati Uniti, a Roma, a Siena, però magari non la faresti comunque perché non te lo puoi permettere per motivi economici, di età, di tempo. Quello che invece dovrebbe interessarti è apprendere questi schemi e queste informazioni che io ho appreso negli anni frequentando tutti quei corsi ma standotene comodamente a casa tua. E ti assicuro che fra tutto quello che ho immagazzinato fra il mio periodo da studente e quello da insegnante è tanta roba. Adesso invece ti spiegherò perché i corsi online sono flessibili. Ho sempre voluto imparare tante cose nella mia vita e ancora oggi a 52 anni conservo ancora questa spinta. Però quando andavo fisicamente a scuola ero talmente sommerso dalla quantità di informazioni e di compiti da svolgere che non avevo di certo tempo per andarmi a cercare altre informazioni. E oggi è la stessa cosa per tutti i ragazzi che frequentano una scuola superiore o per chi è al lavoro o per chi è all'università. Non c'è tempo. E poi detta fra me e te non è che proprio tutti gli argomenti che si fanno a scuola sono proprio così interessanti. Poi però mentre frequentavo le scuole di musica mi sono accorto che avrei voluto approfondire un certo tipo di argomenti e informazioni ma all'interno della struttura che frequentavo non erano a mia disposizione e non sapevo nemmeno dove andarmela a cercare fuori di lì. Per cui in questi casi perdere l'entusiasmo è molto facile. Invece con i corsi online potrai prenderti solo le informazioni che ti servono senza doverti scrivere contemporaneamente a diverse scuole. È un bel vantaggio no? Adesso ti parlo del punto numero quattro, l'ultimo, cioè i corsi online sono un ottimo modo per continuare a formarsi costantemente. Vedi, diplomarsi o laurearsi a una scuola di musica può significare almeno quattro anni di studio ma spesso accade che le informazioni vengono dimenticate o addirittura diventano obsolete. Invece attraverso i corsi online puoi tenerti sempre aggiornato sulle novità che escono ogni giorno, soprattutto su quelle che riguardano il mondo tecnologico. O per esempio se si scoprono nuove metodologie di insegnamento o apprendimento o addirittura nuovi modi di fare marketing che riguardano la propria professione e così via. Oppure nuovi modi di fare marketing che riguardano la propria professione e tanto altro ancora. Si sa che nel nostro settore è buona cosa stare sempre e costantemente aggiornati. Per cui se vuoi rimanere sempre al passo con i tempi i video corsi online sono perfetti perché puoi trovare quello mirato a esattamente ciò che tu stai cercando. E infine il punto 5 è i corsi online possono essere anche divertenti. Iscriversi a un corso online potrebbe essere anche un modo per coltivare un hobby, una passione. Non deve essere per forza qualcosa rivolto solo allo sviluppo della propria professione o per acquisire nuove capacità professionali. Magari ti piace suonare uno strumento musicale solo perché lo trovi divertente, rilassante, ricreativo. Insomma ti fa star bene. Non deve necessariamente essere la tua professione. Nel mio caso per esempio iscriversi a The Drum Booster vuol dire entrare a far parte di una community di batteristi che non necessariamente sono tutti professionisti. Anzi la maggior parte non lo è e non vuole nemmeno diventarlo. È solamente un luogo virtuale dove si possono conoscere e frequentare persone simili che condividono la stessa passione. E questo ti garantisco che è un grande aiuto per crescere come persona e anche come musicista. Io credo fortemente che l'importante nella vita sia stare con persone simili a te che condividono le stesse passioni e gli stessi interessi. A me capita ancora spesso purtroppo di trovarmi in situazioni di frequentazione di gruppi di persone con cui non condivido nessun interesse con cui non ho quasi nulla in comune. Nelle conversazioni ci si annoia reciprocamente, non si sa di cosa parlare solo perché non si hanno degli argomenti in comune. Ma è normale. Poi basta trovarsi a un concerto dei musicisti o delle band che adoriamo ed ecco che si passano delle ore a parlare di musica con i nostri colleghi e amici per ore sia prima che dopo l'evento. E tu in quale di queste due situazioni preferiresti stare? Si dice che noi siamo la media delle dieci persone che frequentiamo di più. Ecco perché il mio sforzo è diretto in questa direzione. Io voglio creare una community di persone simili che hanno piacere di stare insieme. Quello che sto cercando di fare è creare il cosiddetto gruppo di pari. All'inizio virtualmente all'interno di un portale dove si può studiare uno strumento musicale. Poi ci si può trasferire su un social come per esempio il gruppo strumenti per il batterista intelligente e poi vedrai ci si incontrerà dal vivo di persona in un evento live. Per cui vedi partendo da una situazione virtuale si può piano piano costruendo un gruppo di persone che hanno piacere e voglia di stare insieme arrivare ad incontrarsi realmente di persona per scambiarsi impressioni, biglietti da visita, iniziare collaborazioni, stringere nuove amicizie. Perché quando si sta in mezzo a persone stimolanti come te è molto meglio. Garantito. Bene, adesso che ti ho spiegato che cosa è per me un corso online e quali potenzialità può offrirti e soprattutto ti ho dimostrato a che cosa avrai accesso se entrerai a far parte di questa community, iscriviti al portale TheDrumBooster.com e poi iscriviti anche al gruppo Facebook Strumenti per il batterista intelligente. Vedi questo è solo l'inizio, ovunque tu sia e in qualunque situazione tu ti trovi adesso, presto ci sarà l'occasione di incontrarsi sia virtualmente che di persona, realmente. Adesso ti abbraccio e ti aspetto all'interno del club. Clicca sul link qui sotto ed entriamo in contatto ed incontriamoci. Un abbraccio da Ruggero. Ciao! Ciao!